Dunque, Enrico Trotta su Cilento Channel, ci troviamo a Salerno per questa iniziativa, Comitato di Zona Enrico Trotta. Di cosa si tratta? Spiegano le nostre telecamere l'iniziativa. Grazie. Questo è un progetto start-up innovativo che sta a Verona, a Bergamo e a Salerno, quindi diciamo anche il sud non è sempre inferiore alle altre città del centro e nord d'Italia. Il Comitato di Quartiere si è occupato ab origine dal principio di raccogliere le istanze e i problemi dei cittadini e mediarli con l'ente locale, il comune, la provincia e quant'altro. Adesso, grazie al servizio civile, con questi ragazzi dove si integrano perfettamente stranieri, immigrati e ragazzi e ragazze italiane, giriamo i parchi, tuteliamo l'ambiente, monitoriamo il territorio e laddove ci sono delle carenze, laddove ci sono delle manchevolezze, noi interveniamo sull'igiene urbana e sulla tutela dell'ambiente. Questa cosa è molto apprezzata da una popolazione che è meno retrograda e meno incivile di quello che notoriamente si possa pensare rispetto ai luoghi comuni che il sud è arretrato. Voi gestite più o meno 10 parchi, da quanto tempo è che è attivo questo servizio del comitato di zona? È circa un anno, ma diciamo che grazie anche agli sponsor e a una serie di iniziative correlate, collegate, oggi abbiamo più opportunità e più possibilità di renderci utili all'intera comunità locale. Possiamo tirare un bilancio di un anno della vostra attività? Sicuramente, siamo cresciuti tanti, tanto in termini numerici, come adesione di ragazze e ragazze, abbiamo tante richieste anche di ragazzi extracomunitari che vogliono integrarsi in questo progetto. Ovviamente effettuiamo delle selezioni molto severe, questo mi sembra logico e mi sembra anche giusto e il bilancio è più che positivo. Da 1 a 10 direi che siamo arrivati a 7 e mezzo. Per chi volesse partecipare alla vostra iniziativa, come deve fare? Basta telefonarci, non so se poi voi potrete apporre un numero in sovrimpressione in questo reportage televisivo che è il 350 57 21 913 e qualcuno dei nostri operatori risponderà sicuramente per mettersi a disposizione.